Prima abbiamo ricordato che tu hai collaborato, Salvo Mauceri, con Pupo e abbiamo, guarda, Pupo era qui anche lui in spiagge che faceva il... Ciao, ciao a tutti da Pupo! Ciao! Fatemi sentire! Dov'è? Salvo! Chiamatemi Salvo, Salvo Mauceri! Salvo, Pupo, ciao! Eccomi qua! No, sono lì dietro, sempre che ha smesso di piovere, perché ho fatto il mio rito propizziatorio, ho cantato la mia canzone, che anche voi sicuramente conoscete, Su di noi, com'è che fa? Su di noi, nemmeno una nuvola, cantatela anche voi! L'amore è una favola! Pensate che proprio ieri ero in Piazza Mosca, in Piazza Rossa, a Mosca, perché facciamo questo grande... È vero che tu cantavi con lui, con Salvo? No, ho fatto un grande concerto in Piazza Rossa, stavo incominciando a cantare su di noi, è arrivato Morandi a cantare, scende la pioggia e purtroppo ha rovinato tutto. Meno male che dopo è arrivato Alberto, che ha cantato nel sole, ecco qua, grande amico! Su di noi! Cantiamo insieme? Sì! Su di noi, nemmeno una nuvola, su di noi, nemmeno una nuvola... Anche voi! Ecco, adesso però tu... Però, aspetta, è arrivato un altro personaggio, è arrivato lui, il grandissimo, Adriano! Celentano! Questa... Questa sera esco di grado e parlo ancora meno e questa sera sono venuto perché... Perché? Perché sono venuto? Sono venuto perché non ne posso più di Claudia Quando sono in casa con lei, tutti i giorni, è una cosa insopportabile Pensate, credetemi, stare con Claudia mori di sicuro Vi saluto! E questa... Cosa volevo dire? Ah, scusa, vieni qua con me Allora, vogliamo fare un grande applauso per questo grande personaggio Ecco, come ti chiami? Ugo Allora, caro Ugo, ecco, facciamo un piccolo quiz È facile Allora, se Sara va sempre al cinema Ecco, non suggerite Se Sara va sempre al cinema Che cos'è? È una? Cinema No, se Sara va sempre al cinema È facilissimo È una Sara? È una Sara... È una Sara cinesca! Bravo, eh, complimenti Ecco, bravo, ci è arrivato Hai capito? Ma facciamo un saluto finale Anche un omaggio a un grandissimo Ecco, Corrado Che ha sempre condotto la corrida Ecco, e stasera Vedi, ci sono tanti talenti Che potrebbero incominciare così Oh, eh, signori, signori Buonasera Da Corrado e benvenuti alla corrida Oh, e come dice il maestro Pregadio E, oh, ah, e non finisce qui Ciao, grazie Simone Merini Grazie Grazie, grazie 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 a te È emergenzile A domanda È un contributo, eh Grazie 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 Grazie